Ti sono capitate situazioni in cui la persona magari ti diceva non sto bene così, mi tengo il mio farmacozzo, la mia pillolozza, come ti comporti in quei casi? Mi è capitato, mi è capitato con un paio di persone che avevano avuto un disturbo ossessivo molto grave e mantenevano un po' di tratto, di bisogno di controllo anche sulla sostanza, ma io in questo caso ho detto che nessuno li avrebbe forzati e ho usato un pochino più di suggestioni positive, gli ho detto bene vedremo al prossimo controllo, chissà che in questo periodo lei stessa non senta così il desiderio di togliere un quartino dalla pastiglia che prenda, ma così magari le viene come sua idea, ma non le sto chiedendo di farlo, quindi ho lavorato più così in maniera indiretta fino a quando sono stati loro a sentire che volevano fare questa cosa, l'hanno fatto progressivamente ma mantenendo il controllo e l'hanno fatto da soli addirittura, quindi tornati magari dicendo ho tolto un quartino e a quel punto bisogna evitare di spingere, quindi non è a bene, allora tolga un'altra, dice ah fantastico e com'è stato, no? E si rinforza il fatto che è stato bene lo stesso, ah chissà cosa capiterà nei prossimi mesi, magari le verrà voglia o magari dovrà tenerne tre quarti, no? Gli orienti, gli orienti, fino a quando puoi anche lasciare quello che definiamo l'utile resto, come diceva Paul Walserick, cioè potrebbe anche darsi che la persona senta bisogno di avere il suo quartino di antidepressivo, che so per uno o due anni, ma sa bene chiunque che sia un quartino già da un punto di vista biochimico, stiamo parlando più di effetto placebo, no? Che non di effetto biochimico, però devo dirti che con i loro tempi se vengono seguiti bene e consolidano i cambiamenti, i pazienti alla fine non vedono anche l'ora di liberarsene, no? Di una schiavitù che comunque è una sorta di promemoria del fatto che c'è stato e c'è ancora un problema. Ecco, questo è fantastico perché si collega col punto successivo, il contrario, la persona che potrebbe essere molto nell'esempio includere, ma non solo, persone con problematiche per le quali il farmaco diventa qualcosa che dovranno utilizzare o vita natural durante o comunque per un lungo periodo, la compliance in quel caso, come la gestisci? Allora, sai, la compliance farmacologica generalmente è più appannaggio del medico che prescrive il farmaco, no? Chiaro però che se tu stai seguendo la persona hai anche bisogno di verificare che non ci siano colpi di testa, che a volte purtroppo con queste persone ci possono essere, perché il rischio grosso è che se il farmaco di un certo tipo come l'antipsicotico, ma anche l'antidepressivo viene di colpo sospeso, poi abbiano un effetto rebound che peggiora ancora di più certi malesseri. Quindi io di solito quando ho persone che sono contrari al farmaco, perché se non lo sono non c'è il problema della compliance, io invece ritengo in collaborazione con lo psichiatra che sia importante che in questo momento lo prendano, io tendo a rassicurare molto sul fatto che è un periodo in cui sarà necessario prenderlo, che niente per sempre, che se le cose migliorano ulteriormente, no? Sarà lo stesso psichiatra a decidere di scalare, ma uso molte analogie, può essere proprio l'idea del poter prendere per un periodo un antibiotico, no? Che a volte va preso per periodi più lunghi, fino a quando non è debellato veramente il problema, l'idea che una persona che so che soffre per lungo tempo di emicrania debba evitare di resistere all'idea di prendere un analgesico, quindi uso molte immagini sul fatto che ci sono tanti farmaci che noi possiamo decidere di assumere per un periodo e poi vediamo. Allora io personalmente evito di dare la condanna a chiunque, cioè io non ho mai detto e dubito che mai dirò a qualcuno che questo farmaco lo dovrà prendere tutta la vita, perché non ha la sfera di cristallo e per quanto una situazione possa essere grave, la possibilità che ci siano remissioni, cambiamenti, io non le escludo mai. Certo. E soprattutto perché anche da un punto di vista se vuoi epistemologico scientifico dichiarare che questo disturbo è incurabile di nuovo non rimanda a quelle che sono le nostre odierne conoscenze. Certo. Cioè purtroppo la famigerata immagine che la depressione è come il diabete e quindi gli antidepressivi per il depresso sono come l'insulina, è purtroppo una scorrettezza scientifica e anche un'affermazione eticamente discutibile, no? Perché non è ancora stato dimostrato che esistano delle basi fisiologiche certe o addirittura genetiche come dicono che possano far dire che una depressione è come un diabete. Certo però che un paziente che si sente dire questo poi arriva con la condanna. Ecco semmai il punto è come togliere una condanna a qualche dono a cui il medico ha detto il suo problema genetico se lo otterrà tutta la vita. Questo è il vero problema. Mi ricordo quando feci volontariato e tirocinio insieme per quattro anni in una ASL del mia zona dove veniva questa persona che mi disse io ho una malattia nel cervello e gli chiesi chi te l'ha detto questo? Guarda il medico della stanza accanto, era un paziente andava lì da tanto. E effettivamente io lì, anche per questioni ovviamente anche relazionali, io ero in un certo senso un ospito, un tirocinante, un volontario, però pensai io che posso fare con lui? Poi il gradino sopra faccio il più possibile, però combatto contro un muro che non sarò in grado almeno ora di demolire. Effettivamente arriva la persona, ho detto qualche settimana fa ho visto un ragazzo che ha detto questa malattia, per favore non chiamarla malattia, no, parlandoci lui mi diceva tu non la vuoi chiamare malattia? Vabbè la chiamiamola in un altro modo. Ma è tosta a volte scontrati, ti scontri non con una credenza, ma con una cultura. Sai, allora, una cosa che ho imparato facendo questo lavoro è che le crociate non sono mai sagge, non sono mai strategiche, proprio perché sono crociate, il che non vuol dire che con la singola persona che io ho davanti io non possa invece sconfiggere quella che è la profezia negativa che gli hanno dato. Chiaro che lo fa in maniera diversa a seconda del ruolo in cui sei, dell'età che hai, dell'esperienza, di quanto ti puoi permettere anche di dire che chi gli ha detto certe cose è un incompetente. Quello che dicevo all'inizio della mia professione quando era ancora giovincella e chiaramente non potevo dichiarare di avere chissà quale esperienza è molto diverso da quello che dico ora. Ora devo dirti che io molte volte mi permetto di dire che chi gliel'ha detto è un ignorante che non ha studiato. E poi, con persone ovviamente che sono in grado di capire un po' di argomentazioni scientifiche rispetto al loro disturbo, spiego quello che abbiamo scritto nel libro, qual è la situazione della ricerca. Avete avuto problemi con il libro da parte dell'area medica o dell'area psicologica? No, guarda, anzi abbiamo avuto veramente molto molto interesse, abbiamo avuto un grande riscontro e devo dire diventava un po' difficile attaccarlo perché lì dentro è tutto puntualmente documentato. Quando abbiamo scritto questo libro, sapendo di scrivere cose un po' scomode, ci siamo proprio focalizzati sul documentare qualunque affermazione fatta, contesti di ricerche riconosciute, di molti psichiatri medici citati, quindi uno può dirti non sono d'accordo ma poi ti deve anche dire in base a quali fonti. Quindi non è un libro che esprime delle opinioni personali, è un libro che riorganizza quanto detto anche da altri sull'ad esempio il delirio dell'inflazione diagnostica nelle diagnosi psichiatriche, sul fatto che ogni giorno esca un nuovo disturbo, sul fatto che le case farmaceutiche cavalchino l'onda di un ambito come quello dei disturbi psichiatrici in cui è facile creare un nuovo disturbo per poter vendere un nuovo farmaco, però tutte cose che per fortuna cominciavano già a essere dette non così chiaramente ancora nella realtà italiana. Però devo dirti, aver trovato qualche dono, che si alzasse e dicesse no, io contesto o qualche psichiatra questo libro non è nessuno, ma perché di fatto, ripeto, siamo stati estremamente aderenti a quello che la ricerca a livello internazionale dice rispetto all'efficacia delle psicofarmaci e anche a come vengono commercializzati, come vengono proposti per i vari tipi di disturbi.